Musica Polla il 30 e 31 marzo, la camminata in rosa e la presentazione dell'unità operativa sanitaria di oncologia Vallo di Diano, ieri conferenza dei sindaci e consiglio della comunità montana Salerno, lucida artista, danno erariale da 850 mila euro, tre responsabili Provincia di Salerno, assegnate le deleghe ai consiglieri Guzzo alla rete scolastica, questa mattina la conferenza stampa Sant'Arsenio, giovedì 28 marzo, la presentazione della nuova associazione Team Montepruno Buonasera e bentrovati alla TG di Uno News In apertura c'è la sanità Il prossimo fine settimana a Polla saranno giornate dedicate al tema della prevenzione delle patologie oncologiche Un tema che dopo una lunga attesa vedrà finalmente l'ospedale di Polla vicino alla gente Questa mattina la presentazione della Due Giorni, la camminata in rosa a margine del quale il direttore sanitario, il dottore Luigi Mandia ha parlato anche del servizio che a breve sarà attivo Sentiamo Presso l'ospedale Luigi Curto di Polla partirà a breve l'unità operativa semplice dipartimentale di oncologia Un servizio atteso e fortemente voluto che così inizierà finalmente a prendere corpo grazie anche all'arrivo e la prossima attivazione di un moderno mammografo al momento in installazione Questa mattina in occasione della presentazione della prima edizione della camminata in rosa una due giorni promossa dal comune di Polla Grazie alla presenza del dottor Luigi Mandia, direttore sanitario del Luigi Curto e della dottoressa Narita Roscinio, responsabile della struttura dipartimentale di oncologia Sono state anche annunciate le novità in merito proprio al servizio di assistenza oncologica che sarà attivo presso l'ospedale di Polla Un primo passo importante che si spera possa anche portare a ulteriori servizi per potenziare proprio l'assistenza al territorio in materia di malattie oncologiche Abbiamo un momento di collaborazione importante con la dottoressa Roscinio che è un oncologa che già ha lavorato in tanti posti della nostra provincia, della nostra regione e che viene qui ad assumere la guida di questo servizio che oggi parte ma che è proteso a dare sempre di più alla nostra gente Possono usurrivere del servizio venendo qui a Polla in un paio di giorni alla settimana specificatamente il martedì e il mercoledì, questo per il momento Dopodiché spero a breve riusciremo ad avere la dottoressa qui tutti i giorni Se ci dovesse essere bisogno di ricovero ci sono i nostri reparti a disposizione Se poi ci dovesse essere bisogno di momenti più importanti relativamente alla cura di queste patologie sarà la dottoressa ad indirizzare con sicurezza i nostri ammalati In ambito oncologico il ruolo della prevenzione è un assoluto Il nostro sforzo è quello ma non è solo quello di fare prevenzione è quello di andare oltre Ci proponiamo, lavoriamo per fare presto qui anche le chemioterapie, quelle rosse e non ci stancheremo mai fino a quando non riusciremo ad avere questo risultato Abbiamo vicino anche tutta la comunità, qui a Polla ci ha dato una mano anche l'assessorato del comune l'assessorato allo sport, l'amministrazione comunale Domenica c'è un percorso rosa, ci saranno tante associazioni, tante donne, tanta gente c'è tutta una comunità che si sforza per andare avanti nel miglior modo possibile Proprio la sensibilizzazione verso la prevenzione è il tema centrale che ha poi portato all'organizzazione dell'evento che partirà il prossimo 30 marzo a Polla con un convegno medico con inizio alle ore 17 che vedrà la partecipazione di oncologi e psicologi esperti In serata all'ospedale di Polla si illuminerà di rosa L'evento proseguirà domenica mattina con la camminata in rosa a cui potranno partecipare tutti indossando un capo di colore rosa e con la presenza in piazza Monsignor Forte di stand per prenotare gli esami oncologici da effettuare presso il presidio ospedaliero Pollese E si parlerà di salute e vita alla Banca Montepruno venerdì prossimo 29 marzo durante l'evento di presentazione del progetto La donazione del sangue da cordone ombelicale organizzato dal Circolo Banca Montepruno in collaborazione con la Fondazione Montepruno e l'Associazione Montepruno Giovani Tutto il gruppo si fa promotore di un importante progetto di sensibilizzazione sul territorio Sentiamo i dettagli nel servizio La Banca Montepruno ancora una volta promotrice di un importante progetto di sensibilizzazione La Sala Cultura dell'Istituto di Credito a Sant'Arsenio ospiterà venerdì 29 marzo a partire dalle ore 17.30 l'evento di presentazione dell'iniziativa la donazione del sangue da cordone ombelicale organizzato dal Circolo Banca Montepruno in collaborazione con la Fondazione Montepruno e l'Associazione Montepruno Giovani e all'incontro interverranno prima i vertici il presidente Aldo Rescinito il direttore Michele Albanese e a coordinare il presidente Antonio Mastrandrea Sarà chiamato poi a relazionare sul progetto il dottor Francesco De Laurentiis direttore della ginecologia Luigi Curto di Polla Verrà dato così inizio al progetto che vedrà anche altri eventi di divulgazione e sensibilizzazione sul territorio il convegno di venerdì sarà incentrato sull'importanza di donare il sangue del cordone ombelicale poiché in esso, anticipano gli organizzatori sono contenute cellule staminali in grado di generare globuli rossi, globuli bianchi e piastrine utili a curare malattie del sangue e del sistema immunitario normalmente questo sangue viene scartato assieme alla placenta dopo il parto basta però una scelta della donna durante la gravidanza per fare in modo che esso venga raccolto in Italia è consentita la conservazione del sangue cordonale per uso dedicato cioè in tutti quei casi in cui esso può essere utilizzato per un membro della famiglia affetto da una patologia curabile con delle cellule staminali emopoietiche oppure nel caso in cui nell'ambito della famiglia stessa vi sia un elevato rischio di malattie genetiche ed è garantita a fronte della presentazione di adeguata documentazione clinica senza alcun onere economico per il paziente e la sua famiglia la conservazione autologa invece non è consentita in Italia poiché non sostenuta da evidenze scientifiche tuttavia la coppia può a proprie spese esportare previa autorizzazione ministeriale il sangue del cordone umbilicale presso istituti privati all'estero ora andiamo a Padula dove ieri si è svolta la conferenza dei sindaci del Vallo di Diano su due argomenti di macroarea l'organizzazione locale all'interno del costituendo ato rifiuti è quella all'interno dell'ente idrico campano i sindaci quindi si sono riuniti per decidere che tipo di organizzazione darsi in materia di gestione dei rifiuti e del servizio idrico sul primo punto tutti d'accordo nella costituzione del subambito distrettuale tra i 15 comuni del Vallo di Diano per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti sul secondo ci sono posizioni diversificate tutti hanno negli anni esternalizzato il servizio affidandolo a CONSAC 5 hanno resistito Bonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana e Sanza e ieri questi 5 hanno deciso di continuare sulla strada di gestire autonomamente la risorsa idrica a seguito della conferenza dei sindaci c'è stato il consiglio generale della comunità montana su questioni tecniche tra cui la presa d'atto del nuovo revisore dei conti che è Angelo Porcaro di Cepaloni abbiamo parlato delle riunioni di ieri con il sindaco di Montesano Giuseppe Rinaldi che prima ci racconta delle decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci poi fa un'analisi politica ravvisa infatti in seno alla comunità montana una frattura tutta interna al PD locale che puntualmente si traduce nell'impossibilità se dipendesse solo da loro di raggiungere i numeri necessari a gestire da un punto di vista amministrativo l'ente sovracomunale ma ascoltiamolo sul primo punto quello del lato rifiuti abbiamo deciso, abbiamo ripreso il deliberato del 2016 dove già affermavamo che volevamo costituire un SAD c'è un microambito all'interno dell'ambito più vasto tra i 15 comuni del Vallo di Diano che potesse gestire autonomamente in maniera coordinata e integrata la raccolta del settore proprio dei rifiuti a livello del Vallo di Diano chiedendo ovviamente una tariffazione autonoma poi sull'altro punto sull'ente idrico campano che anche si sta costituendo che sostituisce IATO che gestiva il servizio idrico integrato in maniera diciamo consortile non c'è un'unanimità nel Vallo di Diano nel senso che le amministrazioni nel tempo si sono diversificate nelle scelte alcuni hanno deciso già di esternalizzare il proprio servizio idrico integrato attraverso la CONSAC che era l'affidatario da parte del lato dell'epoca altri comuni precisamente i 5 tra cui anche il mio Montesano sulla Marcellano hanno tra virgolette rifiutato questo passaggio hanno continuato a gestire autonomamente in maniera economica efficace ed efficiente il proprio servizio idrico integrato questa posizione ancora oggi vuole essere portata avanti confermata ancora siamo convinti di poterlo fare purtroppo sussiste un problema in comunità montana è inutile negarlo perché negli ultimi consessi i numeri sono sempre al limite nel senso che esiste una frattura che è tutta interna al Partito Democratico da quello che emerge che non consente ed è stata anche detta pubblicamente quindi è notorio a tutti a chi si occupa che ci sono delle posizioni diverse all'interno del Partito Democratico su cui io non intervengo perché non è casa mia però chiaramente nel momento in cui siamo un consiglio generale della comunità montana i numeri debbono essere garantiti da quelle istituzioni come può essere l'amministrazione comunale di Monzano ma anche altre che non hanno appartenenze specificatamente politiche al PD noi lo facciamo perché per far funzionare un ente con tutto ciò che ci vuole la normativa, gli operai, i dipendenti, le funzioni va fatto è giusto secondo me sugli atti gestionali dare il proprio contributo in questo caso anche di presenza fondamentale altrimenti non si potrebbero discutere però è evidente che c'è una grande contraddizione in termini politici perché se da un PD da un lato vuole fare cappotto in tutti gli enti sovracomunali dall'altro lato quando deve gestire questi enti sovracomunali non riesce ad avere i numeri per poterli gestire e portare avanti da un punto di vista amministrativo dovrebbero secondo me fare un po' di chiarezza perché effettivamente si rischia l'impasto in alcune vicende che riguardano il territorio chiudere gli organi sovracomunali peraltro gestiti poi con i fondi di tutti i comuni a un solo partito e millantare anche un famoso cappotto che poi non so cosa possa servire obiettivamente soprattutto in termini sociali e poi nel contempo avere bisogno però di quei sindaci che non devono fare parte del cappotto per portare avanti le giuste rivendicazioni e gli atti dei cittadini si crea una profondissima contraddizione perché dico anche forse non so se è stato detto lo dico io anche all'ultima assemblea del consorzio sociale è solo grazie a questi sindaci che non posseggono e non indossano il cappotto del PD che il bilancio previsionale che in quella fase era già un consuntivo è stato potuto approvare Ora la cronaca per tre edizioni di Lucidartista a Salerno la Corte dei Conti e la Guardia di Finanza hanno accertato un danno erariale di 850 mila euro e tre responsabili ma sentiamo i dettagli nel servizio Lucidartista la Kermes Natalizia del Comune di Salerno dal 2006 richiamo nazionale e internazionale per milioni di turisti è entrata nel mirino della Corte dei Conti procedure amministrative illegittime assegnazione di lavori e forniture poco trasparenti un danno erariale di 850 mila euro e tre responsabili individuati è quanto emerge dalle indagini della Guardia di Finanza di Salerno indagini che hanno riguardato gli appalti le prestazioni rese e finanziamenti erogati in occasione di tre edizioni dell'evento la decima l'undicesima e la dodicesima è stato accertato che i responsabili comunali relativamente all'assegnazione degli appalti che hanno comportato nel triennio in questione una spesa complessiva di circa 8 milioni e mezzo di euro hanno frequentemente fatto ricorso ad onerose affidamenti diretti anziché procedere con gare pubbliche come prevede la legge il che ha portato ad assegnare lavori e forniture ad un ristretto gruppo di società individuate di volta in volta dai dirigenti comunali la Procura Contabile ha quantificato il danno erariale in circa 850 mila euro e individuato quali responsabili due dirigenti e un funzionario del comune di Salerno Tentata rapina ai danni di un dipendente dei supermercati E.T. di Salerno la vittima ha reagito e i malviventi dopo una colluttazione si sono dati alla fuga sentiamo Conoscevano l'orario del volto del dipendente che ha il compito per i supermercati E.T. di Salerno di prelevare gli incassi dalle varie sedi e di versare i soldi in banca e così lo hanno atteso nei pressi del supermercato di via Eugenio Caterina a Salerno e dopo averlo raggiunto in sella ad uno scooter lo hanno minacciato con una pistola e hanno tentato di sottrargli il borsello dove sapevano che c'era una cospicua somma di denaro la pronta reazione del dipendente forse le ha sorpresi in suo aiuto sono arrivate anche dei colleghi e così il tentativo di rapina non è andato a buon fine i rapinatori nella colluttazione hanno anche perso la pistola che ora sarà di fondamentale aiuto per risalire alla loro identità oltre a tutte le immagini che sono state registrate dalle videocamere di sorveglianza per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i necessari rilevi è stato anche necessario chiudere al traffico via Eugenio Caterina il tentativo di rapina avvenuto stamattina segue di poche ore quanto avvenuto nella tarda serata di ieri sul raccordo Avellino Salerno all'interno dell'area di servizio Baronissi Sud tre persone coperti da casco integrale ed armate di pistola hanno messo a segno una rapina ai danni dell'impianto di erogazione carburante i tre malviventi dopo aver minacciato il dipendente addetto all'erogazione si sono fatti consegnare l'incasso in suo possesso circa 2000 euro per poi darsi alla fuga in sella di una moto è stato un'automobilista anche egli minacciato a dare l'allarme alle forze dell'ordine Voltiamo pagina domani giovedì 28 marzo alle 10 presso la sede dell'Ente Parco a Vallo della Lucania si terrà il workshop dal titolo Programma di Interventi per una riqualificazione in chiave Smart City dei comuni e territori del Parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni organizzato dal Parco e dall'Enea uno dei principali obiettivi del protocollo d'intesa sottoscritto tra i due soggetti pubblici è l'attuazione del progetto New Energy Park Angelo Vassallo che mira al raggiungimento dell'autonomia energetica del Parco ciò comporta la programmazione di una serie di interventi di riqualificazione delle infrastrutture strategiche necessarie alla gestione del Parco e dei comuni insistenti sul relativo territorio individuare le priorità ascoltando le esigenze delle amministrazioni comunali e codificandole in un piano di interventi dettagliato e strutturato rappresenta il punto di partenza per l'attuazione di questo processo virtuoso a beneficio del territorio e dei cittadini ora parliamo di politica il presidente della provincia di Salerno Michele Strianese ha assegnato le deleghe ai consiglieri scegliendo così il gruppo che lo affiancherà per i prossimi due anni nell'attività amministrativa dell'ente provinciale a favore del territorio questa mattina presso Palazzo Sant'Agostino la presentazione ufficiale alla stampa dei delegati e dei settori di cui dovranno occuparsi il presidente Strianese ha anche annunciato il nome del suo vice che sarà Carmelo Stanziola che coadiuverà il presidente anche nei rapporti istituzionali e con gli organi pubblici per ciò che riguarda le deleghe ci sarà Antonio Rescigno che si occuperà di viabilità Vincenzo Servalli alle opere pubbliche ad Antonio Sagarese eletto nelle file di campagna libera e andata la delega all'edilizia scolastica mentre Fausto Vecchio di Più Centro si occuperà di ambiente Giovanni Guzzo del Partito Socialista ha invece ottenuto la delega alla rete scolastica e Luca Cerretani si occuperà di personale e società partecipate ma ascoltiamo le parole del presidente della provincia Michele Estrianese a margine della conferenza stampa di questa mattina abbiamo distribuito tutte le delega ai vari componenti del consiglio che fanno riferimento alla maggioranza un po' di partecipazione da parte di tutti qualche delega ciascuno quindi definiamo un po' i ruoli sapete che le competenze della provincia sono quelle fondamentali però la provincia ha ruolo di indirizzo di vigilanza di controllo su tutta una serie di argomenti io penso che la provincia debba dire la sua anche su quelle che sono funzioni non direttamente proprie ma che riguardano il sviluppo di un'area vasta come può essere quella della provincia quindi abbiamo affidato tutte le deleghe più importanti per esempio la viabilità in continuità con quanto fatto negli anni passati al consigliere Rescigno le opere pubbliche al consigliere Servalli il vicepresidente Stanziola mi seguirà un po' in tutti i rapporti istituzionali i rapporti con i vari organismi pubblici privati l'università poi l'edilizia scolastica è stata assegnata al consigliere Sagarese di Campania Libera l'ambiente al consigliere Fausto Vecchio del gruppo di centro mentre per esempio il consigliere Guzzo del partito socialista seguirà la programmazione della rete scolastica le politiche giovanili le pari opportunità quindi diciamo che stiamo coinvolgendo un po' tutti e mi auguro che faremo un buon lavoro ieri avete anche ribadito il sostegno al presidente nazionale del lupi per quanto riguarda il piano sul conte per avere i finanziamenti per queste opere diversi già canteriati sì siamo stati diciamo la nostra rappresentanza è stata a questo convegno a Ravenna dove si parla degli investimenti si sta chiedendo al governo nazionale un maggiore impegno su questioni che riguardano investimenti pure perché la problematica della sicurezza delle strade dei ponti in particolare delle infrastrutture è attuale all'ordine del giorno e le province hanno tantissime responsabilità su questo ma pochissimi pochissimi finanziamenti grazie John ora parliamo di turismo il comune di Celle di Bulgaria si conferma una delle mete turistiche preferite dei bulgari in Italia il piccolo centro è gemellato da qualche anno con la cittadina bulgara di Veliki Preslav ed è l'unico comune d'Italia dove nelle scuole elementari si studia anche la lingua bulgara e dove è possibile ammirare nel centro del paese la statua del principe bulgaro Alsek il condottiero che guidò gruppi di popolazione bulgara verso il sud Italia sempre più spesso spiega il sindaco Gino Marotta riceviamo telefonate di turisti bulgari interessati a visitare il nostro territorio in Bulgaria le foto del nostro comune così ha detto sono finite sui principali quotidiani della nazione ogni anno circa 2 milioni di bulgari visitano la nostra regione un flusso turistico enorme interessato anche al nostro territorio il nostro comune ha proseguito non ha mai fatto turismo mette in chiaro il primo cittadino siamo partiti da zero ora però qualcosa sta cambiando la gente sta iniziando a comprendere che è necessario investire sul nostro territorio sull'accoglienza e sui servizi di qualità ha concluso Gino Marotta ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità ci ritroviamo tra poco bentornati alla seconda parte del nostro Tg una nuova realtà associativa sta per nascere sul territorio che andrà a rafforzare ulteriormente anche i rapporti e i legami tra Vallo di Diano e Alburni domani giovedì 28 marzo presso la Sala Cultura della Banca Montepruno si terrà la sottoscrizione del documento di costituzione dell'associazione Team Montepruno sentiamo di cosa si tratta L'amore per i cani e di conseguenza per la cinofilia ha portato un gruppo di giovani degli Alburni e del Vallo di Diano a dare vita ad un'associazione impegnata non solo nella cura dei cani ma anche nel promuovere attività legate proprio all'amico dell'uomo giovedì prossimo presso la Sala Cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio si terrà la sottoscrizione ufficiale dell'atto di costituzione della nuova associazione denominata Team Montepruno prendendo il nome dal monte simbolo degli Alburni legati al territorio e alla loro tradizione anche per la diffusione della pratica dell'attività venatoria e condividendo l'amore per gli animali i giovani valdianesi alburnesi hanno deciso di dare vita ad una nuova realtà che si occuperà di una serie di iniziative culturali e formative con convegni e seminari oltre che iniziative sociali con l'intenzione di organizzare eventi di pet therapy rivolte a bambini e anziani e diversamente abili avvalendosi del supporto della Banca Montepruno e del direttore generale Michele Albanese che ha voluto condividere l'idea e la passione dei ragazzi anche perché rivolta a tutta una serie di attività di interesse comune e partendo dalla tradizione che vede il territorio riconosciuto come Culla dei Segugi giovedì alle ore 17.30 l'associazione Team Montepruno si presenterà ufficialmente ed esporrà quelle che saranno le finalità del gruppo oltre che le iniziative a cui si dedicheranno questa terra spiegano i membri dell'associazione è stata da sempre la Culla dei Segugi soprattutto per una grande tradizione venatoria e per gli straordinari territori a disposizione attraverso quelle esperienze e quella cultura tramandata a noi dai nostri avi come giovani appassionati cinofili del territorio abbiamo voluto dare vita ad una unione finalizzata a valorizzare e far conoscere il nostro territorio partecipando alle varie verifiche zootecniche che si tengono ogni anno a livello nazionale ora parliamo di mare nove spiagge cilentane sono a misura di bambino sono state insignite della bandiera verde dei pediatri 2019 acqua limpida e bassa sabbia per i castelli e luoghi dove cambiare i pannolini sono tra i criteri di assegnazione di questa bandiera ma sentiamo anche quest'anno ci sono diverse spiagge del Cilento e Golfo di Policastro che rientrano tra le tante località insignite della bandiera verde dei pediatri 2019 riconoscimento che indica una località marina con caratteristiche adatte ai bambini selezionata attraverso un'indagine condotta tra un campione di pediatri ben 10 le bandiere assegnate alla campagna di cui 9 sono sul territorio cilentano Agropoli Lungomare San Marco Trentova Ascea Centola Palinuro Marina di Camerota Pisciotta Polli Cacciaroli Pioppi Positano con le spiagge Arienzo Fornillo Spiaggia Grande Santa Maria di Castellabate e Sapri Ottiene il vestillo in campagna anche Ischia con la spiaggia di Carta Roma Lido San Pietro In totale sono 142 i comuni italiani e spagnoli insigniti della bandiera verde dei pediatri 2019 Le regole di assegnazione riguardano la presenza di acqua limpida e bassa vicino alla riva sabbia per torri e castelli bagnini e scialuppe di salvataggio giochi spazi per cambiare il pannolino a lattare e nelle vicinanze gelaterie locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi Il 28 giugno presso il comune di Praia Mare si terrà la cerimonia di consegna ai sindaci dai 142 comuni della bandiera verde 2019 Il riconoscimento viene assegnato dal 2008 In 12 anni con il contributo di 2550 pediatri italiani ed europei sono state selezionate le 142 spiagge in Italia e in Spagna più adatte ai bambini Il professore Farnetani ordinario alla Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche di Malta ha spiegato che ormai gli under 18 vanno al mare non per curarsi come si faceva nell'Ottocento ma per stare all'aria aperta e giocare insieme ai genitori insomma soprattutto per divertirsi Il mare offre una possibilità ai bambini di muoversi fare attività fisica stare all'aperto e passare del tempo con i genitori per la campagna e per il territorio nostro è sicuramente un orgoglio avere 10 spiagge a misura di bambino A Capaccio Pestume ad Ascea dal 4 aprile si parlerà della storia greca del territorio grazie ad una rassegna di arte e cultura dal titolo Aleteia tra i protagonisti della rassegna anche Giancarlo Guercio a cui sarà affidato il compito di aprire la parte dedicata agli spettacoli sentiamo i dettagli nel servizio sarà Giancarlo Guercio l'artista a cui sarà affidato il compito di aprire la rassegna dedicata alla storia greca che si svolgerà tra Capaccio Pestume e Ascea dal titolo Aleteia per rivivere la storia e ricercare la verità sull'origine greca della campagna il progetto punta a divulgare e a far conoscere oltre che ad apprezzare e valorizzare la grecità del territorio cercando anche di approfondire ulteriormente la conoscenza della storia e del pensiero filosofico greco giovedì 4 aprile evento inaugurale della rassegna che proseguirà fino al 6 aprile e che si aprirà presso il parco archeologico di Pestume con un incontro di presentazione alla presenza tra gli altri anche dell'assessore regionale al turismo Corrado Matera oltre che del direttore Gabriel Zucktrigel a seguire un servizio navetta trasferirà i partecipanti al teatro Ariston di Pestume dove si terrà l'evento culturale e artistico che aprirà la tre giorni di concept consistente in incontri culturali durante il giorno e appuntamenti di teatro musica e danza nella serata alle ore 18 e 30 sarà quindi Giancarlo Guercio protagonista della serata con una lezione spettacolo dal titolo La Verità che sarà rappresentato oltre che dallo stesso maestro Guercio anche da altri grandi interpreti capaci di suscitare le emozioni necessarie nel raccontare l'arte e la cultura greca uno spettacolo realizzato intorno ai testi di grandi filosofi come Eschilo Sofocle Euripide Sartre e Pravese Si tratta di uno spettacolo che cercherà di spiegare la tragedia e il tragico greco anche dal punto di vista umanistico L'evento di Pestum dichiara il maestro Giancarlo Guercio risponde a un preciso itinerario intellettuale prima che artistico il tema è la verità nella tragedia gli antichi greci spiega Guercio presentando il suo spettacolo avevano colto elementi importanti fondamentali del vivere comune noi li abbiamo voluti rintracciare e proporre in forma d'arte con me in scena ci saranno bravissimi interpreti che rappresenteranno alcune scene tratte da tragedie classiche si tratta di un lavoro raffinato e di grande senso dichiara in conclusione che spero avvicinerà il prestigioso pubblico che parteciperà alla rassegna ora parliamo di musica oltre 70 concerti nel 2018 in Italia e anche all'estero per presentare il suo ultimo disco dal titolo ACCL il cui primo singolo estratto Tamoriata di Periferia è stato inserito negli archivi di musica popolare e World Music sta riscuotendo davvero tanto successo il cantautore di Polla Giovanni Di Donato che anche per questo 2019 ha in programma una serie di concerti e progetti ma sentiamo All'animo campano il cuore lucano così come è intitolato il suo ultimo disco il chitarrista scrittore e compositore Giovanni Di Donato cantautore originario di Polla molto legato alla sua terra e all'intero Vallo di Diano tanto che le sue produzioni sono sempre intrise di meridionalità il suo primo singolo è Tamoriata di Periferia è stato subito un grandissimo successo oggi il pubblico lo canta insieme a Di Donato ad ogni suo concerto in giro per il territorio campano e lucano il brano è nato da una poesia racchiusa nell'ultimo libro pubblicato da Giovanni versi scritti in italiano e in vernacolo dal titolo Peccato e tradizione accompagnata da un videoclip girato a Matera capitale della cultura 2019 prodotto da Giacomo Casale Tamoriata di Periferia ha anticipato il primo disco di inediti da solista del cantautore e pollese l'album pubblicato dalla Etnopunk Record si intitola ACCL abbreviazione di Animo Lucano Cuore Campano proprio perché spiega il cantautore le mie sono canzoni cantate nella dialetto nostro e che si ispirano alla nostra terra per questo Animo Campano dal momento che sono campano ma cuore lucano poiché sono molto legato alla Basilicata anche per motivi musicali ho collaborato con molti artisti lì e ho vissuto a potenza per diversi anni il passaggio alla musica popolare è arrivato quasi per caso per Giovanni che tempo fa aveva iniziato la sua esperienza nel mondo della musica in una band metal la pubblicazione di ACCL mi ha portato ad avere una attività concertistica molto ma molto proficua il 2018 si è concluso con oltre 70 concerti addirittura a Berlino il 2019 è partito ancora meglio dato che sono sempre in giro per fortuna i prossimi live saranno a Salerno il 31 marzo e poi altri impegni con il teatro dato che ho altre due colonne sonore da completare per l'estate dove ci saranno altri due spettacoli per il lab teatrale di Salerno quest'estate sarà ricca di sorprese e invito quindi tutti quanti a seguire i canali YouTube Facebook i social per altre novità sui festival a cui parteciperò dopo poi l'impegno con il teatro mi dedicherò anche al seguito di ACCL che è un altro album che spero comincio a registrare a fine anno quindi ACCL mi ha portato fortuna questo animo campano cuore lucano e speriamo di andare sempre più in alto e per questo appuntamento è tutto grazie per averci seguito continuate a restare con noi e a tutti buon proseguimento di serata grazie a tutti Grazie a tutti.